Prego signorine, prego, buonasera, buonasera, come tutti i personaggi di una certa importanza sono costretto a camminare con la sicurezza, prego la signorina Mariana, signorina Susi, ci consenta un po' di sudore, se no dicono che sembro vecchio, allora voglio ancora una volta ringraziare il nostro amico il Capone, il Capone che dà voce al popolo e quindi dà voce anche a me, continua anche il nostro sondaggio, è vero signorina, se io sono un uomo unto da Dio o se sono Dio e in zla, i sondaggi nel sud hanno quello Dio e in zla, al nord per un uomo unto da Dio, ma io comunque credo che il problema grave della nostra nazione, del nostro paese sia l'ignoranza, sia l'ignoranza, signorini mie, vi consento un po' di sudore, anche a lei e per vincere l'ignoranza anche del nostro amico Capone io consiglio delle lezioni a casa fatte da una buona maestrina, mandiamo un intervento della maestrina.